Per ridurre gli incidenti stradali occorre soprattutto prevenzione. L'invito per le amministrazioni locali è di introdurre sistemi di limitazione della velocità innovativi come i famigerati speed check che tanto hanno fatto clamore nel capoluogo. Se ne ha parlato nel corso di un convegno in provincia. Sentiamo. Fare il punto sulla sicurezza stradale e sugli orientamenti assunti in merito dall'Unione Europea per i prossimi dieci anni e sulla linea ad adottare affinché si riduca sensibilmente il numero delle vittime della strada in provincia di Frosinone. Questo è l'obiettivo del convegno che si è tenuto presso l'ente di piazza Gramsci alla presenza di rappresentanti provinciali e forze di polizia. La parola d'ordine tra gli addetti ai lavori è stata prevenzione. È per questo che nel corso dell'incontro si è parlato soprattutto dell'importanza di alcune strumentazioni atte a contrastare l'eccesso di velocità come i nuovissimi speed check, dissuasori di velocità in grado di tenere costantemente sotto controllo e dunque rallentare la corsa degli automobilisti lungo le arterie cittadine. L'inclusione nel senso che di fatto comprende anche la possibilità di utilizzo dell'autovelox per cui non è un solo dissuasore ma è un metodo per rendere più dissuasivo il controllo attraverso l'autovelox. Presenti già da qualche settimana in alcune zone del capoluogo, gli speed check sono al momento in via di sperimentazione ma la loro efficacia sembra indiscussa tanto che si punta al loro incremento su tutto il territorio provinciale. Il progetto che proponiamo e che stiamo portando in giro per l'Italia in realtà comprende oltre allo speed check quindi un sistema di dissuasione molto efficace e molto soft per cui che induce diciamo in modo spontaneo l'utente a rispettare i limiti. Ci sono un'altra serie di attività che noi proponiamo agli enti che devono portare l'ente stesso a fare una serie di attività per essere virtuoso quindi non eccedere nelle sanzioni, cercare di portare l'utente a rispettare come diceva lei prima giustamente i limiti e le altre per disposizione del codice in sostanza. Da tempo l'amministrazione provinciale è impegnata in un importante progetto di sensibilizzazione del territorio sul tema della sicurezza stradale. Numerose le campagne attivate come quella denominata meno bevo più vivo, una serie di messaggi indirizzati ai giovani affinché assumano comportamenti responsabili atti a prevenire gli incidenti stradali. Siamo consapevoli che la prevenzione può dare tanto è per questo che la nostra campagna pubblicitaria che sta andando benissimo meno bevo più vivo cerca di sollecitare l'attenzione massima soprattutto rivolgendoci ai più giovani per quanto riguarda l'abuso di sostanze stupefacenti. in tutti i cinema, nelle scuole, diciamo così con tovagliette apposite abbiamo dato vita a questa campagna di sensibilizzazione che sta dando, diciamo così, quantomeno sta facendo parlare, sta facendo discutere insomma.